Appena finito il sette colli, adesso sono qui a Livigno per due settimane per la preparazione qualitativa in vista dei mondiali che saranno dal 21 al 28 luglio in Corea. Qui a Livigno preparerò l'ultima parte di lavoro un po' più tosta, faccio 10 allenamenti in acqua e tre allenamenti in palestra, infatti mi piace molto come struttura l'acqua granda perché ha la piscina fantastica e anche la palestra ci si può lavorare bene. Poi quando scenderò a Roma, sarò tre giorni a Roma e dopo parto per Tokyo dove ci sarà lo scarico finalmente. Il prossimo anno ci saranno le Olimpiadi però per ora la testa è solamente al mondiale, poi un mese di vacanza e da fine agosto si inizierà la dura preparazione per l'anno olimpico. Grazie a tutti! Grazie a tutti!